Un caro saluto a tutti da Piergiovani Salimbeni, qui nella riserva naturale Palude Brabbia in provincia di Varese e benvenuti nel canale dedicato al mondo degli strumenti ottici. Nel 2006 Kowa presentò il Genesis con obiettivi XD da 44 mm, successivamente propose il formato da 33 mm in file, quello compatto da 22 mm. Su binomania chi mi segue avrà senz'altro letto varie recensioni e opinioni al riguardo. Questa volta però ho deciso di parlarvi del 10,5x44 che mi è stato gentilmente fornito da Kowa Optimet Deutschland e che costa attualmente 1.389 euro. Ha eccellenti vetri XD Kowa e moltissime soluzioni interessanti che li consentono tutt'oggi, dopo 17 anni della sua creazione, di essere ancora uno dei migliori binocoli presenti sul mercato. Io ve ne parlerò quindi dopo la breve sigla, ci vediamo tra poco! Nel corso degli ultimi 17 anni la maggior parte delle aziende ha rinnovato o sostituito spesso con molta rapidità i propri prodotti di alta fascia, sia per accontentare gli appassionati, sia per primeggiare nella solita guerra fredda tra produttori di binocoli. Kowa invece non ha ancora cambiato il suo top di gamma, come vedete, per questo motivo, come scrisse una volta Oscar Wilde, le domande non sono mai indiscrete, ma le risposte lo sono e a volte, e quindi io ero un po' curioso di dare una risposta alla solita domanda che mi balenava in testa da un po' di anni. Ma un binocolo progettato più di 17 anni fa può essere ancora concorrenziale nella fascia medio alta del mercato? Devo dirvi innanzitutto che a livello meccanico ben poco da recriminare, nel senso che lo scafo in lega di magnesio è decisamente robusto, con un grande ponte centrale e una manopola di messa a fuoco metallica che, come vedete, anche zigrinata. È presente poi una spessa armatura di colore verde Kowa, con una lieve trama buccia di arancia, che facilita il grip similmente ai due poggi inferiori per i pollici e parte della mano. La mia bilancia elettronica inoltre ha stimato un peso senza tappi di 965 grammi, che è distribuito su circa 17 centimetri, quindi non è di certo tra i binocoli più leggeri, ma senz'altro pesa bene in mano e questo evita la comparsa di micro vibrazioni durante l'utilizzo. La messa a fuoco invece è relativamente fluida ed apprezzo lo snap test perché ha un punto di fuoco ben evidente, sia passando dall'intrafocale che dall'extrafocale. La distanza minima di messa a fuoco che ho misurato è di un metro e settanta e da questa distanza è possibile arrivare fino all'infinito ruotando di poco meno di un giro e mezzo la ghiera di messa a fuoco. La regolazione delle diotrie è invece affidata, come vedete, a una ghiera dotata di blocco di sicurezza che è presente sull'oculare destro, anch'essa mi è parsa fluida e con un ottimo punto di fuoco. Oltretutto è anche ottimizzata con uno spessore con vari pin che ne facilita la presa e l'ergonomia. I progettisti inoltre si sono concessi anche un vezzo estetico, ossia l'inserimento della sigla Prominar sul primo diafarm interno di fronte all'obiettivo. Per quanto riguarda il reparto ottico, come ricorderete, Kowa è l'unica azienda al mondo a dotare i suoi top di gamma di obiettivi in cristallo puro di fluorite che ha coltivato in laboratorio, perché, come sapete, da anni l'estrazione del minerale è stata bandita. All'esempio la serie dei telescopi di osservazione al top della gamma è il Kowa Elander Prominar che vedete qui dietro. Di contro, dato che i binocoli Kowa XD non superano i 10,5x, ritengo che sia apparso superfluo a Kowa l'uso della fluorite sintetica e per tale motivo hanno sviluppato delle lenti ad ultra bassa dispersione in alternativa al monocristallo artificiale per ridurre l'aberrazione cromatica. Ufficialmente, infatti, Kowa conferma che questi vetri XD riducono in maniera inferiore l'aberrazione cromatica rispetto ai vetri in fluorite sintetica, ma questa caratteristica è visibile unicamente con i cannocchiali, perché all'8,5x 10,5x, onestamente, io non ho notato alcuna traccia di residuo cromatico. Infatti, mi è parsa una tra le migliori ottiche che io abbia testato per ciò che concerne la correzione di tale aberrazione, anche rispetto ai binocoli dal doppio del prezzo. La serietà delle aziende, inoltre, è evidente anche nel precisare che amano suddividere ciò che è totalmente composto in fluorite da ciò che non lo è, nel senso che molte ottiche simili a quelle XD sono preposte sul mercato con la dicitura FL. Ma anni fa Mr. Tamotsu Kitai di Kowa mi confermò che loro parlano unicamente di fluorite soltanto quando le ottiche sono composte interamente di fluorite. Per la cronica, se tale binocolo fosse spacciato come FL, ritengo che nessuno se ne potrebbe accorgere, visto la sua ottima correzione dell'aberrazione cromatica. Usando questo binocolo beneficerete, infatti, di immagini nitide con un microcontrasto molto elevato. La tonalità dei bianchi è leggermente virata verso il caldo, un fattore che però io apprezzo personalmente anche perché aumenta il microcontrasto. Gli oculari, invece, nella versione 10,5x, forniscono un discreto campo apparente di 108 metri a millimetri, che sono quindi 6,2 gradi di campo e poco più di 65 gradi di campo apparente. Le immagini quindi sono grandangolari senza alcun effetto da buco di serratura. Il paraluce di gomma degli oculari è veramente spesso e robusto e a prova di caduta. Personalmente però faccio un po' fatica a usarlo perché sono al limite nel toccare il naso. Avrei preferito forse un oculare meno spesso o quantomeno un paraluce meno dimensionato. La distanza, invece, tra i tubi ottici a 66 mm è di 20,79 mm, mentre la distanza dal bordo del paraluce estratto alla lente di campo dell'oculare è di circa 14 mm. I prismi del Kowa XD 10,5x44 sono del tipo Schmidt Passion, composto da vetro BAK4 ed ASK15 ed offrono un'ottima correzione delle aberrazioni geometriche ed una minima dispersione di luce. Prevedono, infatti, in totale 6 riflessioni e 4 passaggi aria vetro. Le lenti sono anche ottimizzate con un trattamento multistrato di eccellente qualità, un trattamento antiriflesso definito C3, il quale consente, almeno sulla carta, di concedere una luminosità superiore rispetto a quella ottenuta con i classici trattamenti in argento e un alluminio ed offre, inoltre, una riflessione prossima per superficie, pari al 99% su tutto lo spettro visibile, compreso, ovviamente, tra i 400 e i 700 nm. Nell'uso pratico questo si traduce in immagini molto luminose. Inoltre, la mia solita prova di riflettere il viso e i caratteri stampati sulla lente frontale per verificare le potenzialità del trattamento antiriflesso ha rilevato che questo trattamento è uno tra i migliori attuati in questi anni. Inoltre, è stato ottimizzato con il noto trattamento Kowa KR, che è idrorepellente, olio repellente e con un'alta resistenza ai graffi. Se poi calcolate che è anche possibile usare filtri neutri da 46 mm ed avvitare direttamente sulla cella degli obiettivi, potrete anche osservare riva al mare in tempesta o con la sabbia in sospensione, senza rovinare il trattamento o graffiare le lenti. Chi mi segue ricorderà che nei vari articoli apparsi su binomania.it ho sempre avuto il piacere di citare l'ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica di questo binocolo. Ho messo alla frusta infatti tale binocolo in tantissime condizioni, dove altri top di gamma hanno ceduto. Il Kowa XD Promenal regge in qualsiasi test, antenne contro luce, rapaci in contro luce come oggi, anche a mezzogiorno, a luna di pomeriggio, garzette bianche in contro luce, neve e profili delle montagne. Si ha, infatti, l'impressione di avere tra le mani un binocolo in vera florite, anzi, contro un binocolo citato come FL, il Kowa Genesis mantiene una correzione del residuo cromatico migliore anche ai bordi del campo. Come sempre vi invito a leggere l'articolo per ciò che concerne le aberrazioni geometriche e cromatiche. Della cromatica vi ho già parlato, vi posso dire che il binocolo non è totalmente piatto, quindi c'è un po' di degrado ai bordi del campo, che però imminimano l'uso diurno. E' stata prevista un po' di distorsione angolare per consentire l'utilizzo nel panning, quindi l'osservazione da destra a sinistra, mentre nell'osservazione astronomica ai bordi si può notare un po' di coma, astigmatismo sulle stelle più luminose. Inoltre vi invito anche a ramminare il test con la USAF Chard nell'articolo, perché è onestamente tra i migliori mai rilevati grazie all'alta nitidezza e contrasto di questi obiettivi. E' giunto adesso il momento di citare le mie impressioni nell'uso pratico. Essenzialmente lo ritengo uno dei migliori binocoli per uso naturalistico come rapporto prezzo prestazioni. La costruzione è ottima, la reso ottica è eccezionale e per alcune caratteristiche anche migliore di alcuni top di gamma, dal prezzo decisamente superiore. Grazie inoltre ai vetri X di Kowa, le immagini sono sempre entusiasmanti, sia per l'uso terrestre che per quello prettamente naturalistico come oggi. In una classica gita in montagna o in oasi potrete passare senza remore dall'osservazione dei fiori e delle farfalle a 1,70 m ma anche godervi il tramonto sulle Alpi. La tropicalizzazione inoltre consente l'osservazione sotto la pioggia, l'umidità e la neve e la meccanica mi è parsa sempre affidabile. Inoltre il formato 10,5x è ancora facilmente gestibile a mano libera, grazie alla forma e al peso del Kowa Genesis Prominar che è perfetto, secondo me, per gli appassionati di rapaci e di chiunque voglia godere di immagini privi di aberrazione cromatica ma che abbiano anche un'altra nitidezza e contrasto. Sarebbe un po' inutile esaminare un binocolo per uso naturalistico anche nell'osservazione astronomica, ma come ben sapete io sono anche appassionato di osservazione astronomica e quindi posso confermare che le immagini stellari sono sempre un severo test, ma in questo caso la puntiformità è notevole, il campo è realmente sfruttabile e pare a circa l'80%. La luminosità è buona e sotto un cielo molto scuro riuscirete a distinguere anche qualche galassia come ad esempio M81 e M82 nell'orsa maggiore oppure M33 o la galassia di Andromeda M31. Penso che per questo di genere di osservazioni sia preferibile la versione 10,5x rispetto all'8. Tra i pregi direi che è robusto, i 10,5x sono comunque ancora facili da gestire a mano libera. Presenta eccellenti vetri XD COA, un ottimo trattamento COA-KR e un eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica che secondo me è ancora da imitare. Un ottimo microcontrasto. Tra i difetti, come vi ho anticipato, è un po' scomodo a causa degli oculari molto spessi per chi però ha una distanza interpopilare troppo stretta. Inoltre il campo di vista è inferiore ai migliori top di gamma e non è ovviamente tra i binocoli più leggeri. In definitiva il COA-XD Genesis Pro Minar 10,5x 44 è un binocolo poco considerato in Italia secondo me, ma a un prezzo pari a due terzi dei migliori binocoli per uso naturalistico, presenti sul mercato è possibile acquistare un ottimo strumento con una resa ottica eccellente, ben tropicalizzato, luminoso e robusto. Io lo ritengo ancora oggi, dopo 17 anni, imbattibile nel contenimento dell'aberrazione cromatica. Il COA Genesis Pro Minar XD 10,5x 44 costa attualmente, maggio 2023, 1.389€, prezzo suggerito da COA OptiMed. Io ringrazio il manager, il dottor Günther Reisner di COA OptiMed Deutschland per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi come sempre libero di citare le mie impressioni imparziali sul campo. Io vi saluto, vi aspetto su questo canale, ma anche sul sito ufficiale che è binomania.it e su tutti i social che gestiamo che trovate in descrizione. Io ringrazio anche tutte le persone che si sono iscritte, che si stanno iscrivendo e sarò felice se altre se ne aggiungeranno, perché questo mi servirà per continuare a proporvi contenuti sempre più interessanti. Chi non l'avesse fatto potrebbe iscriversi utilizzando l'icona di binomania qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buona osservazione. Ciao ragazzi!